Quindi diciamo che non abbiamo sentito, comunque io non ho sentito queste difficoltà, mi sono semplicemente affidata nelle mani del nostro regista che attraverso tante letture, comunque fatte prima di inserire le riprese, ci ha fatto capire che cosa voleva da noi, che cosa voleva che noi adessimo comunque al nostro personaggio. Perché sono una persona molto gelosa, non uso per niente quel pricciolo di razionalità che mi appartiene per quanto riguarda il saper gestire questo sentimento che spesso si trasforma in malattia e quando ero più piccola non riuscivo a cedere, cedevo a tentazioni molto volentieri, invece adesso cerco di gestire questa follia in maniera abbastanza tranquilla, anche se ne soffro molto, credo che sia un problema completamente caratteriale che non posso assolutamente cambiare con il tempo, può essere sicuramente placato, però non cambia, mi faccio dei film, faccio direzione anche senza motivi, spesso senza motivi.